Un nuovo passo verso l'indipendenza energetica dell'Europa. La Commissione europea e i ministri per l'energia di 12 paesi dell'Unione hanno firmato un accordo di cooperazione generale questo venerdì per costruire la parte rumena del gasdotto Brua, che passa per Bulgaria, Romania, Ungheria e Austria. Stiamo costruendo una rete, non una grande rete nel senso tradizionale, ma condotte più piccole che permettano al gas di muoversi in direzione sud-est-ovest e nella regione ci sarà più energia a minor prezzo. Il progetto Brua permetterà di connettere l'Europa orientale e centrale ai giacimenti del Mar Caspio e del Mar Nero. In Romania la rete sarà lunga 528 chilometri. La prima fase di connessione alla porzione bulgara sarà completata in poche settimane. Questa rete ha ottenuto un supporto finanziario importante dall'Unione europea attraverso il cosiddetto meccanismo del progetto di interesse comune. Circa 180 milioni di euro, a cui va aggiunta la nostra parte. Circa 220 milioni di euro, che verrà sostenuta dall'autorità pubblica per i trasporti. Questo significa sicurezza energetica, lavoro e crescita del PIL. Dal 2019 la rete Brua permetterà di far arrivare all'Ungheria 4,4 miliardi di metri cubi di gas. La cortina di Faro è caduta oltre 25 anni fa, ma la dipendenza dell'Europa dell'Est dal gas russo è rimasta. In considerazione delle tensioni politiche del recente passato è sempre più importante costruire una rete di gasdotti che permettano di diversificare il mercato energetico il più presto possibile.